Tra il 1995 e il 2015 Giorgio Agamben scrive una serie di saggi raccolti oggi nel volume Homo Sacer. Il concetto che sta alla base di questi testi molto articolati, molto complessi è quello della vita sacra o dell'Homo Sacer Agamben si riferisce a una figura dell'antico diritto romano cioè la figura di quella che egli chiama la vita uccidibile e insacrificabile. Chi è l'Homo Sacer? L'Homo Sacer è colui che può essere ucciso da tutti senza che questa uccisione si configuri come un delitto, senza dunque che l'uccisore possa essere accusato di omicidio, possa essere ritenuto colpevole. D'altra parte questa nuda vita è anche insacrificabile non naturalmente nel senso che non possa essere uccisa in quanto diciamo così dedicata agli dèi ma proprio al contrario in quanto la sua uccisione non si configura come un sacrificio agli dèi quindi non ha neanche una valenza religiosa. L'Homo Sacer dunque da nuda vita nuda nel senso che è spogliata sia da quelli che oggi potremmo chiamare i diritti del cittadino e sia anche da una, come possiamo dire, da una valenza religiosa una vita che è al di fuori, che è posta al di fuori sia dal diritto umano sia dal diritto divino ecco questa nuda vita ha una diretta relazione al potere sovrano e nel pensiero di Agamben la relazione del potere sovrano con l'uomo, con l'individuo in quanto essere vivente, uccidibile ed insacrificabile è la relazione originaria della politica che fonda la politica la relazione originaria che ci consente di comprendere anche quella che egli sulla scorta di Foucault chiama la biopolitica cioè questa intromissione sempre più pervasiva del potere sovrano nella vita proprio nella vita biologica di tutti gli individui che rientrano in un certo senso nella sua presa cioè di tutti gli esseri umani che popolano il pianeta Terra ora è interessante secondo me notare anche come Agamben rifiuti la contrapposizione tra stati totalitari e democrazie parlamentari non nel senso che egli non ne individui le differenze le differenti caratteristiche ma nel senso che egli ritiene che sia la democrazia sia la dittatura abbiano appunto una comune origine questa comune origine appunto sta nella biopolitica cioè sta in questa relazione del potere sovrano con la vita degli individui considerata appunto come nuda vita cioè come vita uccidibile e insacrificabile come vita che può essere uccisa in qualsiasi momento senza che questa uccisione configuri un delitto o senza che venga in qualche modo nobilitata da una istanza religiosa altrimenti dice Agamben non si spiegherebbe la facilità con cui le democrazie o comunque gli stati parlamentari si siano trasformati nel corso del Novecento in stati totalitari e come questi stessi stati totalitari siano poi ritornati con estrema facilità a riconfigurarsi nella forma delle democrazie parlamentari ma quello su cui voglio portare la vostra attenzione in questo breve video è diciamo così il come dire il fatto che sempre più sempre più evidenza nella politica contemporanea la figura della nuda vita cioè la figura in base alla quale ciascuno di noi può essere diciamo così in qualsiasi momento considerato come un uomo sacro come vita uccidibile ed insacrificabile ecco questa idea è chiaramente espressa da Agamben nel passo che vi leggerò a conclusione di questo video che naturalmente non ha nessuna pretesa di esaurire il pensiero di Agamben ma semplicemente quello di portare la vostra attenzione su un concetto che secondo me è di grande importanza di grande rilevanza soprattutto nelle presenti circostanze che il mondo sta vivendo il brano è il seguente se è vero che la figura che il nostro tempo ci propone è quella di una vita insacrificabile che è tuttavia divenuta uccidibile in una misura inaudita allora la nuda vita dell'uomo sacer ci riguarda in modo particolare la sacertà è una linea di fuga tuttora presente nella politica contemporanea che come tale si sposta verso zone sempre più vaste e oscure fino a coincidere con la stessa vita biologica dei cittadini se oggi non vi è più una figura predeterminabile dell'uomo sacro come poteva essere per esempio la figura dell'ebreo nella Germania nazista quindi se oggi non vi è più una figura predeterminabile dell'uomo sacro è forse perché siamo tutti virtualmente omines sacri all'uomo sacro